Il Trapani è attivo sul mercato e vuole puntellare la rosa già competitiva per il campionato di Serie D. Il primo tassello è arrivato questa mattina nel reparto offensivo con l'attaccante Samuele Spano che ha firmato con la società Granata e si è giunto al gruppo per gli allenamenti. Si tratta di una prima punta che aveva iniziato la stagione con l'Andrea giocando quattro spezzoni di gara tra Serie C e Coppa Italia di Serie C prima di risolvere il contratto pochi giorni fa. Diverse le esperienze in Serie D per Spano vestendo le maglie di Altamura, Aprilia, Budoni e Sant'Odoro. Nella stagione 2018-2019 con il Budoni ha registrato la sua migliore annata realizzando 18 reti. Non solo in avanti, i Granata guardano anche nel reparto difensivo. Il Trapani infatti ha la ricerca di un nuovo difensore centrale da aggiungere alla già consistente rosa Granata. Un innesto dovuto al cambio di modulo in corsa d'opera di mister Ivan Moschella. La formazione trapanese infatti dopo aver provato in precampionato il 4-2-3-1 e il 4-3-3 sembra essere orientato verso il 3-4-3 modulo utilizzato nel corso delle ultime tre uscite stagionali tra campionato e Coppa Italia. Uno schieramento di gioco quindi che prefigura l'utilizzo di tre difensori centrali al posto di due. Ecco quindi che il Trapani ha la ricerca di un nuovo centrale da aggiungere come alternativa all'interno della squadra trapanese. Intanto, dopo lo stop a causa del Covid, tanto da rinviare i match con Città 9 a Cireale, ieri mister Moschella ha diretto l'allenamento che ha segnato la ripartenza delle attività della prima squadra. Il Trapani ha iniziato così a preparare la sfida di domenica contro il Rende e allo stesso tempo ha lanciato la prevendita per assistere al match che si disputerà allo stadio provinciale.